Ascea Palazzo Ricci dei Domenici, mi trovo qui in occasione del corso di operatori di marketing culturale e di turismo integrato, progetto finanziato dalla Formatembe rivolto a tutte le persone inoccupate, quindi senza lavoro. Tale progetto ha lo scopo appunto di formare nuovi operatori di marketing culturale e di turismo integrato, rivolto a tutte le persone inoccupate. Si rivolge sia agli uomini che alle donne, quindi vado ad ascoltare proprio una partecipante a questo importantissimo corso che da oggi parte qui, da Ascea Paese, che si propagherà per tutto il Cilè. Come mai hai deciso di partecipare a questo importante progetto? Allora, ho deciso perché ad Ascea mancava proprio una figura professionale del genere, di raccogliere proprio tutte le bellezze di Ascea e cercare di promuoverle oltre il territorio, quindi è proprio interessante. Quanto è importante che secondo te che una donna si formi appunto nei vari ambiti lavorativi, quindi anche nel turismo in questo caso? Credo perché c'è una maggiore sensibilità. Noi siamo mamme anche e quindi riusciamo a trasmettere maggiormente ciò che ci interessa.